Questo è il One V, schermo da 3,7 pollici, processore One Core da 1 GHz, memoria interna da 4 GB, estendibile, questo qui con una slot ST, quindi con un SD card, sino a 32 GB. Le funzionalità del software sono le stesse, quindi di iScreen Sandwich, quelle che abbiamo visto in precedenza sugli altri modelli, non cambia foto, camera da 5 megapixel, con flash intelligente, processore audio, bits audio come gli altri telefoni, monoscocca in alluminio, che riprende le finiture del precedente Legend di Dualist, con questo piccolo gradino. Anche questo è la batteria embedded, da 1.400 mAh. Dropbox da 25 GB, anche per questo modello, disponibile gratis dopo anni. Tutte le altre funzionalità che abbiamo già visto sugli altri modelli.